Tutto nasce da una iniziativa tra il presidente del gruppo giovani di Confindustria, Giuseppe Cagliani, e il giovane manager Mirko Mancini di Integra. Quest'oggi illustrato alla stampa l'accordo di collaborazione tra il consorzio Integra e Confindustria Taranto. Però stare insieme è anche, non solo per contare di più, ma per contare meglio. Il percorso avviato mette in condizioni le nostre imprese, anche le più piccole, di avere un'interlocuzione con dei player nazionali e internazionali di pari livello, che è cosa diversa dal subire poi il percorso invece di essere utilizzati come miri subappaltatori, così come spesso è avuto in passato. Questo accordo di collaborazione con questi player ci mette nelle condizioni di discutere in Confindustria, laddove si dovessero verificare delle opportunità, il come, il quando, il chi partecipa a queste opportunità e anche chi fa che cosa e con che dignità. Con i suoi oltre 140 soci distribuiti in tutta Italia e un giro di affari di 6 miliardi di euro e circa 60 mila addetti diretti, il consorzio Integra si configura come una delle realtà più consolidate del panorama cooperativo italiano nel settore delle costruzioni, dei servizi e dell'ingegneria. Il presidente e il direttore generale, Vincenzo Onorato. Stare insieme è anche un modo per far sentire di più la propria voce e fare in modo che la politica finalmente ascolti le esigenze di un settore in agonia a questo punto. Ecco, appalti bloccati, stagnazione, tra l'altro l'ha detto Tria, pericoli incombenti sul paese. Sì, pericoli incombenti, un paese che ha un fabbisogno infrastrutturale enorme, però ha distrutto il suo tessuto imprenditoriale. Oramai la cronaca di tutti i giorni ci fa sentire che la seconda, la terza e la quinta impresa italiana sono in procedura concorsovale, che sono scomparsi 600 mila posti di lavoro, che 150 mila imprese sono sparite. In un settore che è sempre stato trainante per l'economia e che purtroppo oggi vive veramente il peggiore periodo della storia sicuramente repubblicana. La Puglia, Taranto in particolare, molto interessanti. La Puglia è una bella regione, è una regione eccezionale anche nell'ambito del contesto del mezzogiorno, è una regione che fa eccezione, in cui si vive e si lavora bene e in cui c'è stata una programmazione negli anni importante, penso all'acquedotto pugliese, penso alla sanità pugliese e a tanti interventi. Poi Taranto è sicuramente un territorio che merita grande attenzione e investimenti importanti, speriamo che anche da qui si riparta per rilanciare il settore. Grazie.